Grazie. Quando pensate ai documentari, probabilmente vi vengono in mente i fratelli Maisels e Barbara Koppel. Loro non meritano nemmeno di pulire la mia telecamera. Vediamo ora una mia opera, un filmato girato su Krusty Burger. Volete delle bugie al riguardo? La turba a sapere che Krusty usa carne di mucca pazza per risparmiare? No, perché i risparmi li passano a me consumatore, eh scusate... Non ti vergogni di prestare la tua immagine ad un cibo così scadente? Senta, do alla gente un hamburger pseudo carne e una specie di cola e se pagano con 50 dollari si beccano pure il resto. I tuoi consumatori saranno scioccati dalle mie riprese di te che ricuci i resti di hamburger scartati. Come nuovi! Un lavoro scioccante e ora realizzerà un documentario sulla scuola elementare di Springfield che sarà sfavillante e positivo a differenza di tutte le altre sue opere. Certo! Ora ragazzi, mentre giro vi prego di essere voi stessi. Voglio vedere i ragazzi tormentati che rimuginano, i bulli che scazzottano... Scusi, scusi! E noi ragazzi fichi dobbiamo ficheggiare sempre più? Vai così! Alla grande! Resta sul deficiente. L'America dovrebbe essere una democrazia, ma nel cortile della scuola vince soltanto chi è fico. E il genio del male di Springfield è un certo Bartolomeo Simpson. La sua mente diabolica oggi ha ideato palle di fango da tirare ai suoi compagni. Colpisco i secchioni, le pupe bonite, tutto, ecco. Appati il fango, Simpson! Lo dico a mamma! Va via! E in un baleno la gloria di Bart è sparita proprio come la mascolinità in Inghilterra. È una vita pericolosa fare il sorvegliante di corridoi. Quando esci di casa la mattina tu sai che potrebbe essere l'ultima volta che baci le tue bambole. Questo è un lavoro da Ultraman! Abbiamo visto abbastanza. Dovrebbe capire che la nostra scuola non è fatta solo di cretini e di Nelson. Ora le apro una porta a caso. Ma guardi un po', il tipico studente, Lisa Simpson. Oh, salve! Stavo ascoltando Buck mentre leggevo un libro di terza media. Davvero? Vedo che c'è già un'intesa fra voi. Non vedevo una coppiata così spontanea da quella gustosa che ha preso al basilico. Ora vi lascio da soli. Ricorda, Lisa, noi sediamo ancora matematica. Lisa, mi viene spontaneo chiedermi se questa non sia tutta una messa in scena. Ma come le salta in testa? Cosa? Forza, Gigi Riva! Il preside Skinner voleva solo mettere in mostra il suo studente migliore. E saresti tu? Beh, sono piccola, dotata e gialla. I miei interessi includono musica, scienze, giustizia, animali, arte, sentimenti. Quindi diventerai una perfetta intellettuale stile buffet, spizzicando qua e là. Finché un giorno avrai 38 anni e amministrerai una famosa casa editrice. Ehi, io non farò questa fine. Lisa, temo che tu sia una dilettante. Scegli una strada e seguila. Oppure crescerai, arrancherai sino alla laurea e sfornerai bebe. E basta! Da quando Nelson ti ha sparato quella palla di fango non sei più fico per nessuno. Persino quel ragazzino col pannolino è più fico di te. E lui non è certo fico. Ah sì? Riprenderò quota, riprendo sempre quota. Come quando per sbaglio chiamai la maestra mamma. Quel giorno ti ho picchiato persino io. Dopo che eri svenuto. Perché è quell'ornamento da cofano intorno al collo? Ah, l'ho fregato dall'auto di un fesso. Potrei beccarmi l'ergastolo, ma pazienza. L'unico modo per essere più fico di lui è fare esattamente quello che fa lui. Devo fregarmi un ornamento da cofano. Ma come?